Sì, grazie. Sarò breve. Noi abbiamo presentato questa interpellanza poiché da cittadini ci siamo preoccupati, venendo a sapere tramite organi di stampa e con registrazione audio-video online, le dichiarazioni del Presidente della Commissione Sanità, che mi spiace essere fuori ora, che parlava di 200 milioni di buco. Insomma, siccome è il Presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, ci sembrava doveroso poter ricevere degli approfondimenti da parte dell'assessore Mantovani, perché tra l'altro casualmente 200 milioni è anche la cifra che è stata stanziata con la famosa legge d'accordo nei tre anni, quindi abbiamo detto sai mai che sono collegate le problematiche. Insomma, non si sa mai, allora siamo molto curiosi di sapere da lei, l'assessore Mantovani, la situazione reale e eventuali rassicurazioni. Grazie. 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 Sì, grazie Presidente. Beh, non nascondo la difficoltà di comprensione, insomma, bastava dire no, non c'è il buco, è tutto chiaro come ha fatto negli organi di stampa, insomma. Non discutiamo sui prontuari e quant'altro, sulle metodiche messe in atto da Regione Lombardia. Qua si parla però di una dichiarazione di un Presidente della Commissione che teoricamente dovrà andare a trattare una riforma sanitaria complessiva della Regione Lombardia. Quindi questa superficialità nell'affrontare le tematiche spaventa me, spaventa noi e spaventa i cittadini lombardi. Quindi crediamo, mi ritengo poco soddisfatto della risposta, che è stata molto tecnica ma dalla quale non ho capito se mi conferma o meno. E riteniamo sia da valutare l'ipotesi di chiedere eventualmente anche un cambio del Presidente della Commissione Sanità, perché non si può affrontare con questa leggerezza un argomento così delicato per tutti i cittadini lombardi. Grazie.